buongiorno ecco ci sono arrivata mamma mia quante novità non avete idea dovrei stare qua tre ore a parlarvi di tutto quello che c'è ma non lo farò assolutamente allora niente è partito il catalogo nuovo non so se l'avete già gli avete già dato una sbirciata lo trovate ovviamente online sul sito di tapperware italia trovate il catalogo nuovo tanti prodotti a cui hanno cambiato i colori un po più fashion alcune novità alcuni prodotti nuovi e voi sapete che se io non li ho in mano non ve ne parlo quindi man mano che mi arrivano tratterò l'argomento ovviamente di tutti i prodotti che hanno cambiato il catalogo il colore in catalogo ve ne ho già parlato per cui potete andare a cercarvi cambia semplicemente il colore c'è qualche prodotto nuovo ma ripeto ne parlerò quando arriverà ci sono poi tutte le nuove promozioni di ottobre anche quelle non le ho ancora tutte in mano nel corso della settimana comincerò a parlarvi di quelle che ho ma voi lo sapete che quando parte una promozione è la prima cosa di cui vi parlo ed è la promozione della cliente privilegiata l'opportunità appunto di diventare cliente privilegiata attivare un codice sconto e usufruire del 10 per cento di sconto su tutto quello che volete senza vincoli senza obblighi senza minimi d'ordini andarlo a ritirare in sede farvelo spedire a casa quello che volete per cui qual è l'opportunità cliente privilegiata di queste due settimane questa è la prossima bellissima non è in catalogo e ve lo dico subito che questi non sono in catalogo guardate che meraviglia queste sono ciotole che fanno parte della linea essenziale e non sono da sole perché insieme ci sono anche i quattro bicchieri eccoli qua i bicchieri sono da 400 ml le ciotoline sono da 620 ml che materiale è il tritan il fantastico materiale tupperware che è completamente privo di bisfenolo di sostanze che possono diventare dannose quelle particolari sostanze che quando andiamo a bere o a mangiare hanno assunto sapore di plastica tupperware non è plastica mi raccomando non confondiamoci il tritan è un materiale veramente ecosostenibile è sicuro al 100 per cento in odore in sapore in colore sconsiglio di lavarli in lavastoviglie perché a lungo andare potrebbero pacizzarsi e sarebbe un gran peccato perché come vedete sembrano proprio di vetro in questo in questi contenitori la cosa bella è che si possono mettere anche cose calde ma mi raccomando non superate i 40 gradi quindi un tè caldo una tisana un infuso e poi bevande fresche succhi di frutta acqua acqua aromatizzata il vino la birra la sangria hai moito tutto quello che volete le ciotoline sono spettacolari eccole qua sono quadrate sopra e rotonde sotto sono stupende io già queste me le vedo in tavola natale con gamberetti in salsa rosa insalata russa piuttosto che olive funghetti cetriolini piuttosto che cubetti di formaggio o di mortadella di prosciutto cotto va bene ci potete mettere quello che volete le potete usare in frigorifero con degli avanzi potete fare che ne so delle mini porzioni di tiramisù potete usarle in dispensa per della frutta secca per esempio potete potete anche portarvele al lavoro e nessuno ve lo vieta tanto hanno il sigillo e vi faccio notare una cosa che il sigillo a parte avere ovviamente la linguetta per una facile apertura ha questa scanalatura sul coperchio che serve proprio a poterle sovrapporre senza rischio che cadano che vi scivolino sapete che solitamente se i coperchi sono lisci ne mettete una sull'altra c'è il rischio che quella sopra se ne vada in questo caso assolutamente no rimangono belle fisse sono spettacolari quindi le due ciotoline più i quattro bicchieri sono in promozione solo per le clienti privilegiate a 39 euro questa settimana e la prossima per cui vi piacciono avete una consulente contattatela se non ce l'avete contattate me perché anche se abitate lontano possiamo arrivare col corriere non fatevi scappare questa fantastica opportunità perché ovviamente attivando il vostro codice sconto 39 meno il 10 per cento per cui già cominciate a risparmiare ok io ho finito ci tenevo a farvi vedere la primissima delle opportunità tupperware ma sicuramente tornerò giorno per giorno per parlarvi delle promozioni di qualche prodotto nuovo insomma mi rivedrete spesso perché abbiamo veramente tantissime cose di cui parlare io intanto vi saluto vi ringrazio che continuate a seguirmi e ci vediamo alla prossima ciao